Il Presidente della Terza Commissione Consiliare, per Giorgio IV, considera molto proficua l'audizione del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, Aniello Ertico. Per IV, è necessario valutare la notevole rilevanza funzionale e strategica nel panorama economico regionale dell'Asi di Potenza, attenzionando la difficile situazione venutasi a creare da più di un decennio. Il Consorzio, infatti, continua a fornire servizi essenziali ad oltre 150 aziende, inclusa la FCA di Melfi, che producono l'80% del PIL regionale. Sono pertanto indispensabili interventi efficaci in tempi brevissimi. In un'ottica fattiva e realista, esiste ancora la possibilità, continua IV, di progettare una riforma strutturale del Consorzio Industriale, una riforma definita e certa, in grado di dare risposte opportune sia alle grandi che alle piccole imprese. Bisogna introdurre una fase di risanamento, gestita e supportata da una nuova politica industriale. Creare un organismo inedito, a concluso, dotato di potenzialità sufficienti e prerogative idonee per porre in liquidazione e sostenere il deficit di quello esistente. Grazie. 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 Grazie.